I colori e le tradizioni del patriarca San Giuseppe rivivono anche nelle tavolate realizzate dalle scuole cittadine, vere e proprie opere d'arte realizzate grazie alla collaborazione di un'intera città che con spirito caritatevole ha voluto contribuire alla tradizionale cena di San Giuseppe, valori e tradizioni dunque che rivivono intensamente e che si tingono dei colori della solidarietà. Ed è così che a Scoglietti presso l'Istituto Leonardo Sciascia la cena di San Giuseppe è giunta alla 22esima edizione, una tavolata imbandita di tutto punto ed interamente realizzata dalle mamme. Ogni anno nel mese di marzo in occasione della festività religiosa la scuola realizza come segno di devozione con spirito di sacrificio e di carità la tavola di San Giuseppe. La novità in assoluto è che la tavola è realizzata dalle mamme, dalla nuova generazione. È bello anche che i nostri figli crescano con questi valori molto importanti e tutto questo è stato possibile solo grazie alle mamme. Consideri che per fare tutto questo pane sono state mamme che dalle 8 del mattino fino alle 17 sono rimaste chiuse in forno a impastare, a fare tutto questo e senza di loro nulla, di tutto ciò sarebbe stato possibile. A Vittoria la scuola elementare Giovanni XXIII a riportare in vita la tradizione di San Giuseppe. Questa è la quinta edizione e rispetto agli anni passati la collaborazione della città è cresciuta. Cerchiamo di riscoprire così le tradizioni che purtroppo si stanno perdendo. Abbiamo avuto l'aiuto di tutta la cittadinanza, di associazioni, tutti i bambini della scuola e la cosa piacevole è l'entusiasmo dei giovani nel portare questi doni che verranno poi domani donati a quattro parrocchie di Vittoria. Per noi questa è una crescita, per noi, per i nostri figli dare un valore alla vita, cioè dare anche dei valori ai nostri figli perché le tradizioni sono fondamentali, a me le hanno trasmesse, quindi io penso che questo sia importante anche per i nostri figli, insomma dare anche noi un contributo.